Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. E' già match day per i bianco celesti che questa sera alle 21 all'Oroge al Stadium Dino Manuzzi affronteranno ancora in trasferta il Cesena, terza forza di questo campionato, Entella che riduce da 12 risultati utili consecutivi frutto di due paregge, 10 vittorie, ultima delle quali proprio sabato scorso nella casa della capolista al Mapei Stadium Città del Tricolore. Entella che nella giornata di ieri è partita in direzione Cesena, questa mattina risveglio muscolare per i bianco celesti che questa sera alle 21 scenderanno in campo seguiti da 55 cuori chiavaresi che saranno presenti nel settore ospiti. La presentazione del match affidata al tecnico dell'Entella, Gennaro Volpe, andiamo a sentire un estratto delle sue dichiarazioni. Questi tipi di partite ti fanno crescere sotto tutti i punti di vista. Ci vorrà molta personalità, ci vorrà feroce, carattere, che è quello che ci aspettiamo di trovare a Cesena contro una squadra che ha una precisa identità. Però bisogna avere fiducia, fiducia in quello che stiamo facendo, cercando di rispettare molto l'avversario. Ovviamente non dobbiamo porci nessun limite, dobbiamo avere sempre l'obiettivo di cercare di trarre il massimo. Questo è il tecnico bianco celeste Gennaro Volpe, l'andata alla partita terminò 0-0 per tutti i tifosi bianco celesti che non fossero partiti per Cesena. La diretta della partita sarà visibile su Eleven Sports e su La Zone. Entella Time torna domani puntuale alle ore 19.